Anteprime addio, arriva il DAP, Danza a Pietrasanta. Ecco una delle prime novità del cartellone 20 del 2017. Il sindaco Massimo Mallegni a malincuore rinuncia al festival letterario targato Mondadori dopo un ritorno faticoso la scorsa primavera e un'edizione non certo brillante. Ma la nuova rassegna dedicata al ballo durerà tre settimane, tra giugno e luglio, e secondo le previsioni porterà grandissimi nomi della danza e della critica, tra i possibili big anche Mikhail Baryshnikov. C'è stata un'altra proposta da parte di un'importante associazione di danza, di realizzare a Pietrasanta il primo festival internazionale di danza, con scuole di danza che arriveranno da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dalla Russia, dal nord Europa, dalla Danimarca. E io ho convocato il tavolo Start, dove sono presenti tutte le categorie economiche di tutto il comune, dagli istoratori, galleristi, albergatori, stabilimenti balneari, commercianti, tutti, in buon sostanza tutti, ai quali ho spiegato i due progetti. E loro all'unanimità hanno preferito il DAP. Mi dispiace per l'ipotesi anteprime, ma probabilmente si è concluso un ciclo e le cose vanno avanti. Intanto a Pietrasanta si gode la preziosa vetrina guadagnata sul Ferrari Magazine 2017, il patinatissimo e super esclusivo volume annuale che Casa Maranello regala ai 210.000 clienti e partner del Cavallino Rampante. Due pagine dedicate all'evento Ferrari, ospitato in estate, con le rosse esposte in piazza del Duomo. Evento che il sindaco Mallenni si è già candidato a ricevere anche per il 2017. Nelle due pagine centrali ci sono le cave di marmo e dall'altra parte la piazza di Pietrasanta, con quattro foto, una più bella dell'altra, dove c'è un box che ricorda Pietrasanta, città d'arte e degli artisti e degli artigiani, in particolare perché c'è un riferimento specifico e questa rivista è andata nelle mani di queste persone che sono i nostri potenziali clienti.